Il fatto è che nessuno meglio di me conosce questa regione. Allora, questo è vero, lei conosce il territorio. No, io non conosco il territorio, io sono il territorio. Vabbè, sì, insomma, lei è uno... Nessuno come me sa che al 10 di via Camillo Cucca, angolo vicolo, caiafa, ci sta il negozio di fuochi d'artificio e merceria a botti e bottoni. E lo stesso vicolo caiafa neanche lo trovi su Google, perché quando venne la Google cara a fare i rilievi se la sono arrubata. Eh, ma lo dice lei. E il PD neanche mi vuole come candidata alle regionali. Sì. Animale. Allora, intanto non è vero perché a quanto pare il PD ha confermato che l'appoggerà, eh? E si capisce. Eh. Prima Zingaretti mi odiava. Ah, sì? Naturalmente, adesso ha vista Parcatura. Sì, Parcatura. La classifica dei governatori sono risultato viceprimo. Si dice secondo. Si dice secondo. Dopo Zaia, eh? Zaia sta lì solo perché lo sto usando come segnaposto. Zingaretti vorrebbe correre insieme ai Cinque Stelle perché al solo sentir nominare Di Maio, Zingaretti trema. Questa è una lettura suda. Al telefono ogni volta Zingaretti lo sento sudare. Anche a te. Al punto che mi ritrovo l'orecchio tutto bagnato. Vabbè. Io non solo dovrei guidare la campagna, io dovrei guidare anche il PD, l'Italia, probabilmente tutto l'emisfero occidentale. Dopo tutto quello che ho fatto io per la campagna, ancora mi negano di fare le elezioni a luglio. Ma non è che glielo negano. Ma non lo sente il grido di tutti i mass media dal grobo. Elezione a luglio, elezione a luglio, elezione a luglio, elezione a luglio. Ma aspetta, abbiamo visto marcatura. Però il voto probabilmente sarà a settembre, come dice il governo, eh? Cioè non è che... E chi se ne frega non ce lo vogliamo mettere. Ma come chi se ne frega? Traduco per gli inviati della CNN qui sotto la finestra. And who fought about... Vabbè, che è la traduzione. Io non ho bisogno di elezioni, i consensi mi danno al 240%. E vabbè. Ho i grandi elettori negli Stati Uniti che mi telefonano tutte le notti. Addirittura. Perché c'è il fuso orario in lacrime che mi chiedono... We won the Luka. Gli americani. Quello del New York Times. Eh certo. A me in campagna i cittadini non mi danno voti. No? Mi danno i bambini da benedire. Eh, a dire.